La guerra in Ucraina sta cambiando i rapporti di forza su scala globale. In questo volume di Limes ci occupiamo in particolare di come la politica, o se vogliamo anche la non politica di Obama, stia producendo una curiosa costellazione composta da Cina, Russia e Germania. Non a caso il percorso del Trans-Eurasia Express in costruzione, che collegherà appunto le grandi città, le metropoli, il grande mercato cinese all'Europa, passando per il continente eurasiatico e in particolare anche per la Russia. Il cambio di gioco è avvenuto il 21 maggio, quando Putin, messo alle strette in Ucraina e sottoposto internamente a una dura critica per la perdita di Kiev, ha deciso di guardare a est e di rivolgersi al poco amato leader cinese Xi Jinping, proponendo un accordo per la fornitura di gas siberiano all'industria cinese che comincerà nel 2018. Volumi ancora relativamente limitati, ma probabilmente destinati ad aumentare. E comunque, un segnale geopolitico molto evidente, Russia e Cina, che si sentono più o meno giustamente maltrattate o minacciate addirittura dagli Stati Uniti, convergono non per simpatia, ma per una necessità, quella di evitare una morsa che minaccia la loro stessa esistenza. L'elemento aggiuntivo e, se vogliamo, ancora più curioso riguarda la Germania. Già da alcuni anni qualcuno parla di Berlino come di un sesto BRIC, cioè di un paese che si è di fatto sganciato dal blocco occidentale per fluttuare liberamente nell'universo della geopolitica globale. Forse è una tesi affrettata, forse no. Di certo i legami che si stanno intrecciando tra l'economia cinese e quella tedesca, oltre che quelli storici, soprattutto basati sul gas, fra Germania e Russia, fanno pencolare la nuova potenza tedesca sempre più verso l'est. La Germania, insomma, è sempre più mondiale e sempre meno europea. Questo trio, Germania, Russia, Cina, è il vero protagonista di questo numero.